Tutti lontani, lontani! Ma dove stavano uscito? Non so, meno male che questi non hanno visto! Ma chi l'ha visto? Che ne so? Ma così arriva, io non l'ho visto neanche le bambine! E' la prima volta che in una camera mi vedete una cosa del certo! No, giuro io! Cioè lì va vera! Devi avere pure paura dei bambini! Appunto! Cioè... L'ero senza figlio! Vabbè! Vieni perché c'è nel lontano dell'acqua!